pronti per un'incursione in mezzo a questi ragazzi cerchiamo il festeggiato la festeggiate festeggiati chi è il colpevole eccolo qua il più elegante il più elegante di tutti come ti chiami daniele daniele da dove vieni montichiari e cosa festeggi con noi di bello questa sera il mio diciottesimo o applauso applauso senti senti quanto entusiasmo per il suo diciottesimo perché girava voce e adesso lo potrà confermare davanti a una telecamera quindi come dire alla merce di tutti che paga lui per tutti vero a quanto pare si a quanto pare si vedi grande entusiasmo per lui sappiate che questo ragazzo per questa serata non mangia dal 1999 quindi esatto quindi già da un anno prima che nascesse perché già aspettava questa serata perché lui pagasse si era preparato quindi ha una fame latente da una ventina d'anni quasi quindi è in formissima stasera allora figurino allora e cosa desideri per i tuoi diciott'anni domanda banalissimo ma sempre bella domanda ho già dei grandi amici bella vita basta bello bello una bellissima cosa allora chi ti circonda tutti amici c'è qualche cugino qualche nonno qualche amice la mia fidanzata o bello che è questa qua vestite nero come te giustamente si coordina bene bene fanno pandan bravo bravo mi piace francese il ragazzo è viene viene dalla francia e vai voi del sud francia del sud vuoi dire qualcosa vuoi mandare un messaggio non mi viene in mente niente va bene così non è obbligatorio allora lo mando io un messaggio cioè quello di fare offerte di beneficenza per questo ragazzo da domani donate due euro per aiutarlo a pagare la cena di stasera perché vedete che queste sono delle bocche da sfamare quindi aiutatelo a recuperare i soldi che spenderà mandate un sms 48 5 5 0 donate due euro per aiutarlo a pagare il conto un saluto ciao